Ci hanno messo appena tre minuti e mezzo, i malviventi che mercoledì notte, poco dopo le tre, hanno sfondato la porta d'ingresso di una gioielleria nel centro di Bitonto. Sono arrivati a bordo di una golf scura, in quattro sono scesi dall'auto incappucciati, col volto travisato e muniti di guanti. Hanno prima sollevato la saracinesca e poi, con un grande tubo in ferro, usando la tecnica della riete, hanno sfondato la vetrina. In pochissimi minuti hanno portato via soltanto gioielli di alto valore, diamanti e altri monili con pietre preziose, poi sono scappati, portando via tutto, grazie ad un quinto complice rimasto alla guida dell'auto. Appena scattato l'allarme è giunta sul posto la vigilanza e poi anche gli agenti della volante del commissariato di Bitonto e la pattuglia del nucleo radiomobile di Molfetta. La polizia scientifica del presidio di pubblica sicurezza cittadino è stata sul posto per i rilievi del caso e per acquisire i filmati di videosorveglianza. Ed è lì che si partirà per le indagini su cui procederà il commissariato, diretto dal dottor Vittorio Di Lalla, per risalire ai colpevoli. Il bottino ammonta circa 200.000 euro, i danni incalcolabili, specie per chi riparte dopo un lungo periodo di lockdown. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti